Ok già ti prendo, inquadra, fai, inquadra loro, inquadra loro. Siamo qui riuniti per far abbassare il livello di colesterone della Santa. Siamo in bici ragazzi sulla riviera Adriatica e siamo pronti a dimagrire delle malviventi. Ciao! Tutta la riviera, tutta la riviera, tutta la riviera. Gabriella giratevi tutti! Ciao! A te nel palo! La riviera marina, come tu sei? Non prendere dritto, sì. Sicuramente ci dovete vedere qua, vediamo. Bene, fare il posto. Ma già che tutto così non può... Ma qua è già riccione, siamo. Ma che sei? Ancora no. Quando andiamo a fare qua? Come lo vedi a fare? Sì, anche dal quadrato, andiamo a dire. Dal quadrato, mentre che riprendi, c'è praticamente lo zungolo. Questa è fatta ogni giorno? Ah, ogni giorno? Mamma mia! Più tardi a correre, Francesca! Ah, ti vuoi morta? Sì, sì. Ma sta oggi, questa mattina. Anche oggi, oggi corri di più dietro. Vediamo che questi anni possono portare la pranzo, la genna, tutti. Stasera è qua, venga! Vi dovete fare vedere Emanuele, chissà? Ah! No! Mi stiamo accolando tutto. Vero, ci facevamo il video con me che era fotografica? Ok. Ma ti manda chissà, poi? Come tu lo manda? Siamo arrivati! Un'altra venti minuti ci vorranno prima del gioco. Un'altra quarta d'ora. No, no, ancora no! Noi siamo qui bravi! Siete già stanchi, siete già stanchi, bravi, bravi! Fanno la sosta loro. Mi ha detto? Ma guarda! La massima attenzione! La ferma! La ferma, sì, non mi sento. La ferma! La ferma! Fagli il primo piano, fagli lo zoom! Zoom, zoom, zoom! Ma ci vogliamo sapere? Siamo arrivando, che pare che l'avevamo uscita! Margherita, girati! Margherita! Aspetta, aspetta! Vai un poco più sulla destra, chi ha? Ok, adesso... Ripresa! Sorriso! Aspetta che ciò che c'è? Sorriso! L'Urbanze! Ehi, la ciste! Ehi, la ciste! Eh, la ciste, ciao! Ma va, 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 va! Stasera, va, va, va! Stasera, va, va, va! Ma è che ve ne faccio oltre che non avete, porto! Pane da neo! No, la mamma! Attenzione, qua! Stiamo attenti! Attenzione! Stiamo attenti! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Però non lo troviamo dall'analista! E dove andatevi? Ma spiegheremo sta cosa che mi piace! Ma che è questa? La vicina? Questa è quella di un'alzio? La vicina? Per ora non funziona! Ma guardate, guardate! Attenzione! Dalla spiaggia! Dalla spiaggia! Vinciam, 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 vinciam. Ma è giusto! Ma io non lo so veramente, eh! Ieri sera quel signor di Sebastiano pure! Spero che fa! Mi riconoscono con questo locale! Eh, mi sa di sì! Per i siciliani! Eh sì, perché alla televisione la pubblicità è questa! Stai cadendo! Stai scendendo piano piano! Scusate il reporto, cosa te c'è? Non mi dico che io non ho, perché è a noi! Perché fai del duro!